Fulgone bianco Se avvistate un furgone bianco ad uso commerciale a bordo un uomo e una donna appostati all'uscita della scuola con l'obiettivo di approfittare della distrazione dei genitori per rapire i bambini sotto commissione per il traffico di organi dietro il pagamento di denaro Per essere utilizzati per il trapianto il tutto viene eseguito dietro al cassone del furgone adibito a una specie di magabra sala operatoria Pochi poveri bambini malcapitati verranno privati degli organi prenotati e poi non si saprà più niente dei loro poveri resti Aprite gli occhi, state attenti ai vostri figli Fuori scuola il furgone bianco è sempre in acquato Fuori scuola il viso